Ecco, un punto a tuo favore, che mi fai tanto, tanto. Quanto è a favore? Troppo. Non è. No, ragazzi, ci sono sbagliati. No, aspetta, io sono molto curioso di sapere qual è il tuo bacio. Tutti amano il mio bacio, l'unica che non ama il mio bacio è io. Buongiorno, ciao.